Annunciato è arrivato il comunicato ufficiale del Milan, Ibrahimovic torna nel Milan, come, perché, con che cosa, ne parliamo subito. Prima vi ricordo di commentare numerosi, di lasciare un like e di iscrivervi da questa parte. Allora, nel dettaglio vediamo subito che cosa viene scritto nel comunicato. Ibra ricoprirà il ruolo di Senior Advisor della proprietà. Svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del club e contribuirà a rafforzarla nella cultura vincente. Quindi sarà anche un po' motivatore. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, quindi la presenza a Milanello, seppur non tutti i giorni. La promozione del marchio Golbae e degli interessi commerciali del Milan, quindi aspetti legati al discorso commerciale di promozione del marchio Milan. Il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del club, quindi andrà avanti, proverà a dare un contributo a livello di dichiarazioni, ecco, di spinta sul discorso legato allo stadio. Di fatto, ecco, per farlo un po' più semplice, si occuperà di discorsi extra Milan con Redbird, ma anche di Milan come vicinanza al campo a Milanello. Ma di fatto avrà voce in capitolo anche sulle scelte, quindi questo ridimensiona un po' il ruolo a 360 gradi di Furlani, che di fatto aveva delle che su ogni aspetto, su ogni campo, compreso quello sportivo. Ora avrà, ecco, una voce in più con cui confrontarsi e sappiamo quanto Ibra tenda sempre a primeggiare in tutto quello che fa, vuole comunque primeggiare. E quindi, ecco, dal punto di vista della panchina, del mercato, entrerà in qualche modo anche lui nelle scelte come supervisore, advisor di Jerry Cardinale. Ora è ufficiale, vedremo se ci sarà un contributo pratico, se porterà beneficio oppure no e come si strutturerà questa collaborazione. Ditemi che ne pensate, lasciate un like, commentate numerosi, iscrivetevi qui, vi aspetto. Ciao!